Buongiorno cari colleghi, amici, chirurghi plastici, chirurghi generali e ginecologi. Vi volevo parlare di questo primo meeting che noi facciamo qui a Torino il 16 e il 17 maggio sulla ricostruzione mammaria. Questo primo meeting che ho denominato con l'acronimo CULP che significa Chirurgia Oncologica Plastica Estetica vuole essere un momento di riflessione su quella che è la ricostruzione mammaria. Come sappiamo noi in Italia siamo leader nella ricostruzione mammaria, facciamo una percentuale di ricostruzioni mammaria post-oncologiche della mammella altissima e ci sono dei validissimi opinion leader in questo settore. Questo è un meeting dove la faculty, chiaramente per quello che ho detto, è esclusivamente italiana con delle opinion leaders nazionali, con un unico straniero che è un famoso chirurgo oncologo che è un congresso, che è un congresso workshop perché sarà improntato a vari settori, la chirurgia conservativa, la chirurgia ricostruzione con protesi, con materiale autologo, con tutta la problematica della medicina rigenerativa e poi tratteremo anche la mammella chiaramente controlaterale, sia da un punto di vista profilattico, molto attuale l'argomento, sia da un punto di vista estetico. Quindi copriremo quello che è lo stato dell'arte oggi sulla ricostruzione mammaria, ma andando oltre, cioè verso quello che sarà poi il futuro di questo tipo di ricostruzione. Ogni settore sarà suddiviso con dei moderatori che faranno delle clips per introdurre la discussione. Ci sarà un main topic che è The State of Art portato avanti da un relatore altamente competente e poi ci saranno tre discussants che tratteranno nello specifico un argomento sempre inerente a quel topic. Quindi sarà un meeting molto articolato, scientificamente credo molto valore. Vi invito ad iscrivervi a questa manifestazione dove coniugheremo insieme un po' di divertimento legato alla serata sociale con una rock band molto divertente e poi anche un contenuto scientifico molto valido. Buona giornata a tutti, auguri!